L'incubo degli amministratori locali in questo periodo sono le frane e gli smottamenti che stanno flagellando tutta la provincia. Un dissesto idrogeologico che ora dopo ora presenta il conto che in alcuni casi come il comune di Pergola è molto salato, comunità e attività commerciali a rischio isolamento e chiusura. Sono oltre 100 i fronti sui quali la provincia impegnata per contenere i danni ma di soldi ne servono tanti per rimettere in sesto le cose. Uno dei comuni che deve fronteggiarne otto di queste situazioni è il comune di Fermignano dove il giovane sindaco Emanuele Feduzzi dal suo insediamento in poi non si è fatto mancare nulla dalla grandine alle bombe d'acqua agli allagamenti ed ora una preoccupante frana in movimento che rischia di chiudere una delle principali strade di comunicazione sul versante ai confini con il comune di Acqualagna. È una frana molto grossa ed è in continuo movimento. Prima poco fa constatavamo che anche questa notte si è mossa rispetto al recente passato perché subito dopo lo scioglimento della prima neve e del primo Burian è caduta la prima parte di strada che interessa una corsia. Probabilmente questa notte si è mossa ulteriormente quindi ha causato la caduta chiaramente delle transenne di delimitazione ma anche uno smottamento ulteriore della sede stradale. Questa si somma a tutte le altre che abbiamo nel territorio perché come dicevamo prima ne avevamo otto all'incirca nel territorio tra dove il fiume ha mangiato più parti di terreno delle persone oppure nel caso di frane vere e proprie sono otto fronti in questo momento aperti. Chiaramente noi Daniele l'abbiamo sentito, il Presidente, abbiamo inviato la richiesta di stato di emergenza come tutti i comuni il 28 di febbraio e ora siamo in attesa e soprattutto dobbiamo sperare che smetta finalmente arrivi la primavera, smetta di piovere e smetta di nevicare perché altrimenti rischiamo che le frane già quelle che abbiamo si ingrandiranno ancora di più e dopo sarà irreparabile e dovremo chiudere per forza delle strade. Qui attorno a noi ci sono dei caseggiati e una strada di comunicazione, questa se dovesse essere impraticabile sarebbe un problema per il vostro comune? Sarebbe un disagio importante per questa zona perché comunque se i caseggiati sono serviti dovrebbero fare un grosso giro, dovrebbero arrivare da Acqualagna per arrivare qua e insomma costerebbe tipo 10-15 km in più per poter arrivare a casa. Quindi il problema non è da poco in più ci sono anche delle aziende agrituristiche sotto, ci sono delle aziende agricole, sempre tutte in questo territorio quindi il danno sarebbe abbastanza elevato anche se la strada è una strada comunale quindi dove gireranno poche macchine però in realtà per le aziende che girano intorno e per i caseggiati sarebbe un grosso disagio.